benvenuti in questo nuovo video studenti appena andati via però questo non è un video per pubblicizzare la formazione ma un video per pubblicizzare la convenzione con le compagnie assicurative cosa succede che spesso le vetture vengono riverniciate e alcuni levabolli non tutti sono in grado di salvarle mi rivolgo in questo video alle compagnie assicurative se vi interessa salvare la vettura o valutare se è possibile in questo caso in base alle mie capacità e a quelle dei miei colleghi se vi interessa vedere se è possibile salvarla prima di spendere 3.500 euro per una verniciatura completa e risparmiare così all'incirca 2.500 euro o anche di più riparando la vettura senza doverla riverniciare contattatemi quindi convenzioni possibili se vi interessa la riparazione presso le carrozzerie è anche possibile quindi il discorso è molto semplice se riesco a salvare la vettura pagate la riparazione a freddo la verniciatura non dovrà più essere eseguita se non riesco a salvare la vettura ve lo dico prima di eseguire la lavorazione e concorderete con la carrozzeria il costo della verniciatura però quello che vi sto proponendo in questo video è come possibile la riparazione a freddo quindi notevole risparmio sui costi che dovete sostenere se questo video vi è utile fatemelo sapere nei commenti condividete iscrivetevi al canale ci vediamo nei prossimi video